bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi finalmente abbiamo il mio primo defense box da aprire su rush wars ovviamente lo state vedendo la nell'angolo in basso a destra dopo aver ottenuto 100 stelle di difesa della nostra miniera si potrà aprire il defense box e allora ragazzi io direi che senza indugiare oltre possiamo andare tranquillamente ad aprirlo ea vedere un po che cavolo contiene siamo pronti un bel like se vi piacciono i video di rush wars sul canale lo apro lo apro 108 di gold buono buono una macchina arcade arriva arrivano 4 pitcher nice 8 scudi fantastico e arriva un bazooka va bene niente di esagerato ma non possiamo lamentarci ragazzi non possiamo potenziare gli shield e lo faremo immediatamente ci raggranelliamo un bel po collezioniamo anche i 90 di gold abbiamo la miniera ragazzi che bisogna assolutamente risistemare come vedete quando finite il giorno la giornata vi chiede di rifarla piazziamo le difese io piazzerei allora il mortazione è obbligatorio metterlo proprio easy qua abbiamo le due torri da proteggere quindi possiamo giocare senza neanche troppi problemi è bella questa da difendere raga non è così difficile potremmo giocare così e dar fastidio e dar fastidio qua con i minatori per dire per dire potrebbe essere interessante ma ancora una truppa da piazzare io potenzierei con 80 di gold gli shield che se ne vanno su ragazzi prepotentemente a livello 5 fatemi fare una cosa che così non ci pensiamo più tanta roba ragazzi 114 di salute per i pitcher andiamo un attimo a fare un bel screen di queste immagini che è tanta tanta roba ragazzi 322 di shield 35 di danno e 29 di danno al secondo più ovviamente i punti esperienza io li andrei a mettere che danno un sacco fastidio le truppe entrano da lì e da qua noi potremmo mettere la protezione qua per dire e qua ci mettiamo il il coso io li potrei mettere qua le truppe in difesa perché qua c'è l'area del cannone che si potrebbe mettere qua e qua davanti così a si può anche spostare no si può anche cancellare non lo sapevo io penso che così sia abbastanza interessante e il mortazione il mortazione lo dobbiamo mettere in modo che non possa essere in modo che possa colpire senza aver problemi secondo me così è una buona difesa save e go ragazzi andiamo a farci una partita con i nuovi pitcher con i nuovi i nuovi scinti li andiamo a mettere 1 2 e poi prepotentemente proprio la combo super violence raga la combo non potrebbe anche non funzionare però è la combo super violence ci mettiamo la cura che ci sta e vediamo com'è questo attacco come on che andiamo come ragazzi dagli e vediamo cosa succede sono contro versus ricchi 431 coppia per lui Proverei a spingere di qua Vediamo cosa succede E questi proprio dietro la protezione vediamo che succede pronta la cura Ok escono subito gli idraulici qua Ancora un attimo questo ci ha fatto saltare i primi Stanno tenendo bene vediamo se continuano a tenere ok resiste tre colpi vogliamo a curare vogliamo a curare L'importazione fa male ma anche noi facciamo abbastanza male giù giù buoni 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 di scelte buoni di shield Se si salvasse uno shield Che sfiga Che sfiga Però cattivissimo ragazzi però cattivissimo il secondo shot che gli va a distruggere la seconda miniera non è male non è male non è male Andiamo ad aprirci anche un baule raro già un baule comune già che ci siamo 48 di gold Ancora due pitcher nice Jetpack non piacciono a nessuno wow un altro bazooka bazooka molto molto interessanti Dai ci facciamo l'ultima partitozza Andiamo qua intanto qua ci abbiamo No che figo abbiamo anche le casse gratis da aprire ne abbiamo una raga Andiamo 47 di gold buono Un mortazione quasi potenziabile ancora un pitcher E sei cannoni io potenziarei il cannone assolutamente Assolutamente ragazzi per le truppe da difesa Il cannone lo utilizzo 100 di gold mi costa però un cannone a livello 6 Fa male per la difesa 1200 di vita 120 di danno 141 al secondo più 40 punti esperienza ci stava potenziare il cannone ragazzi Ci apriamo anche l'altro chest gratuito 45 di gold Arriva uno shield ancora nice Due truppe e ancora 5 cannoni ragazzi Nice Ultima partita voglio provarla con una combo fantastica che è questa Il gorillone e 4 di questi con la cura Vai Questa è una combo un po' violence Un po' violence Andiamo Allora Gorillazzo in apertura E questi li mettiamo così E così Vai Il gorillazzo deve subire un fottino di danni Il gorillazzo subisce male Andiamo a proteggere Andiamo a curare Andiamo a curare La cura al 3 fa veramente occhi raga Vediamo se vi distruggiamo Il tank Ok via il tank Via la miniera Eh qua purtroppo non riusciamo a difenderci Oddio Peccato raga Mi incacciava il mortaio al set Comunque ragazzi Io volevo aprire con voi il primo bolle della difesa Un paio di partite ce le siamo fatte Direi che va più che bene Vi ringrazio per aver guardato questo video Non ho ancora pronta l'outro E quindi devo salutarvi con quella di Fortnite Se vi piacciono i video di Rush Wars sul canale Un bel pollicione in su E commentate proprio qua sotto Ciao